Musica Proseguono le proteste degli agricoltori contro le politiche dell'Europa e le scelte del governo. Oggi i manifestanti con alcuni trattori si sono nuovamente radunati nei pressi del casello autostradale di Orte sulla 1, dove ci sono stati momenti di tensione. Gli agricoltori in presidio infatti hanno tentato di bloccare la circolazione, ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz. Manifestazioni e proteste degli agricoltori anche in Sicilia, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Puglia e Calabria, dove un uomo è deceduto per un malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106 bloccata dalla protesta. Le mobilitazioni della categoria proseguono anche nel resto d'Europa, dalla Francia alla Germania, al Belgio, Olanda e Polonia. È il giorno del Vertice Italia-Africa, l'occasione per la Premier Giorgia Meloni di svelare i tasselli che andranno a comporre il puzzle di quello che è stato battezzato il Piano Mattei, un piano che punta a stabilizzare dal punto di vista economico i paesi dell'area anche con il coinvolgimento dell'Unione Europea in modo da ridurre i flussi di migranti che decidono di raggiungere l'Europa. Pensiamo ad una collaborazione da pari a pari, lontana da una concezione predatoria o anche caritatevole, ha spiegato Meloni nel suo intervento. Italia-Africa, un ponte per crescere insieme, recita il titolo di questo evento, ha continuato la Presidente del Consiglio, un ponte che noi italiani possiamo costruire senza partire, non da zero, un ponte che Enrico Mattei seppe immaginare. Il Piano Mattei può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, ha spiegato Meloni, circa 3 miliardi dal Fondo Italiano per il Clima e 2 miliardi e mezzo dal Fondo per la Cooperazione allo Sviluppo. Il giorno dopo il vertice di Parigi, tra il Qatar, Egitto e Stati Uniti, Hamas smorza le aspettative per una tregua duratura a Gaza e Dice. Il successo dell'incontro di Parigi dipende dal fatto che Israele accetti di porre fine alla guerra, fa sapere Hamas, affermando inoltre che un rilascio completo degli ostaggi rapidi il 7 ottobre richiede anche che Israele liberi tutte le migliaia di palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Intanto la tensione in Medio Oriente si aggrava dopo l'attacco a un avamposto statunitense tra Siria e Cisgiordania, in cui tre soldati americani sono stati uccisi e altri 34 feriti da un drone. Biden incolpa i militanti sostenuti dall'Iran e annuncia, risponderemo. La Repubblica Islamica risponde, l'Iran non ha nulla a che fare con l'attacco. Adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando, è urgente un cessate il fuoco globale, non ci stiamo accorgendo o facciamo finta di non vedere che siamo sull'orlo dell'abisso, ha detto Papa Francesco in un'intervista rilasciata a Un Quotidiano. Il mondo del cinema e dello spettacolo piange Sandra Milo, che oggi si è spenta a 90 anni nella sua abitazione a Roma tra l'affetto dei suoi cari, come aveva richiesto. È stata una delle attrici più popolari del cinema italiano, tra i suoi maggiori successi i film Il Generale della Rover e Giulietta degli Spiriti e Otto e Mezzo. Lavoro in migrazione e difesa dei salari al centro di un convegno promosso dalla Willa. Si è svolto alla Hotel Europa, nel capoluogo Pontino, il convegno organizzato dal sindacato Willa Latina, dal titolo Un lavoro dignitoso per i migranti, conoscere i diritti, difendere i salari. L'evento rappresenta la conclusione di un importante progetto di informazione e formazione sui diritti dei lavoratori migranti nella provincia, frutto della collaborazione tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, e la Willa.